Nell'ultima primavera estate altri tre sottopassaggi di Pesaro si sono riqualificati all'insegna della street art. Dall'opera falese al San Decenzio realizzata attraverso un workshop guidato dallo street artist Albero Nero, a Intergalactic di Via Gradara, omaggio dell'artista luogo comune, fino a Urban Funky di Via Raggi che ha elevato l'arte di Claudio Sale. Tre lavori coordinati dall'Associazione Pesarese Reperti Urbani che rappresentano un salto di qualità ulteriore al già accattivante progetto Sottopassaggi d'arte urbana coordinato per il comune da Massimiliano Santini. L'obiettivo è sempre lo stesso, rendere arte luoghi grigi trascurati della città come i sottopassaggi. Ma se il primo anno il compito è stato affidato ad artisti locali spesso impegnati in grandi opere fuori città, in questa seconda edizione si sono invece armati di bombolette alcuni dei più affermati street artist del resto della penisola. Ne abbiamo fatti diversi l'anno scorso, uno solo, quest'anno e tre, tutta l'estate è stata super impegnata con tre diversi, completamente diversi artisti, tre modi di lavorare completamente diversi nelle tematiche e siamo qui proprio oggi per spiegare questa estate lunga e piena di appuntamenti che ha reso ancora di più l'Associazione Reperti Urbani più grande con nuovi associati. Oggi in comune l'Associazione Reperti Urbani ha donato al sindaco Matteo Ricci una serigrafia dell'opera a Falesia, una delle più apprezzate dal primo cittadino che si è detto assolutamente convinto di un progetto che si vuole proseguire compatibilmente alle risorse per portare ad un percorso definito di street art in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Già perché non va dimenticato che non c'è solo l'abbellimento di zone grigie degradate, c'è pure il valore aggiunto che il colore lo portano street artist di fama internazionale. I nostri lavori iniziano mesi e mesi prima con l'individuazione di una parete e successivamente l'individuazione di un artista che può essere assolutamente inserito in maniera idonea nel luogo. Lo si contatta e si mette in moto tutta un'organizzazione che va dal suo viaggio, dall'ospitarlo, dal farlo entrare nel mood pesarese, nelle radici della nostra città e questo lo guida nella realizzazione dei suoi interventi. Gli artisti che invitiamo lavorano su pareti ormai da anni e sono artisti internazionali e noi oltre a riqualificare portiamo proprio un museo d'arte a cielo aperto, quindi con nomi molto molto forti nell'ambiente della street art.